Avola, 29 anni e denunciato per il reato di detenzione fino a dello spaccio di droga. Agente del commissione di Avola, nell'ambito dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno denunciato una volesa di 29 anni per il reato di detenzione fino a dello spaccio di droga. Gli investigatori avolesi, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, effettuavano a casa del denunciato una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire a sequestrare 5,8 grammi di crack, parte dei quali già suddivise in dosi pronte per essere cedute, tre bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Inoltre, quando i polizioti hanno atteso l'arrivo dello spacciatore a casa sua, gli hanno contestato anche la guida senza potente e hanno operato sull'autovettura il fermo amministrativo.